bot di dusseldorf 2020 abbiamo un prodotto veramente interessante un is ricevitore questo è la versione solo ricevitore per l'integrazione con le app di navigazione e questo invece la versione trasponder cioè classe b in via e riceve si visualizza direttamente su navionics eccolo qua e quindi questo è un ottimo compare è un ottimo compagno per quanto riguarda la navigazione questa azienda che si chiama digital yacht solution produce un sacco di soluzioni interessanti tra le altre anche questa anche questa asta ior gonfiabile antenna gonfiabile un sacco di cose interessanti altra novità da facnor o comunque presentata in questo insomma questo show abbiamo il sistema per prendere direttamente le mani sono questi di diverse taglie e facnor li propone questo gancio sgancio rapido si attacca questo loop di servizio e quindi non ci sono nodi da fare ed è più semplice grazie recomana e ecc ecc e ecc ecc ecc